Digitale, sostenibile, resiliente sono i temi chiave e imprescindibili per il futuro dell'umanità. La recente pandemia è lì a dimostrarlo. Ecco perché nell'evoluzione, già in atto, del concetto di industria 4.0 torna focale il paradigma di uomo al centro, degli incentivi alla modernizzazione digitale, delle imprese, della qualità del lavoro, delle competenze, della formazione continua, delle relazioni e politiche industriali, delle politiche di filiera, dei prodotti intelligenti, della sicurezza del lavoro, dei modelli di welfare, della cultura digitale. La nuova prospettiva è quella umano-centrica nel convegno futuro 5.0 digitale, sostenibile, resiliente. L'industria 4.0 vedeva al centro del business gli impianti, le macchine, le tecnologie. Arrivate ad un certo punto di questo percorso si è riscontrato una problematica abbastanza importante che era quella della quota uomo all'interno di queste innovazioni tecnologiche. La quota uomo è riferita alla fruibilità di questi sistemi, alla complessità nell'interagire con questi sistemi. Questa lacuna viene colmata con quest'azione propedeutica chiamata Industri 5.0, ma in realtà il nome cognato è Collaborative Industri 5.0, riportando l'uomo in una posizione ipocentrica rispetto ai sistemi. L'uomo deve essere in grado di governare questi sistemi, le aziende devono essere in grado di sviluppare software sempre più fruibili da parte di tutti gli operatori, come anche la mentalità all'interno dell'azienda, partendo dal management, deve comprendere che questo cambio di paradigma deve essere applicato dall'alto, basandosi soprattutto sulla formazione delle persone che dovranno poi fruire di questi sistemi importanti. Il tutto governato anche dalle linee guida che la Comunità Europea ci ha rilasciato e dagli strumenti che la Comunità Europea ci mette a disposizione, come il Next Generation EU, che guarda soprattutto agli aspetti legati ai cambi climatici, quindi alla riduzione delle emissioni in atmosfera e risparmi energetici, a queste tematiche che oggi sono tanto care a livello internazionale.